Abbiamo parlato di api anche nella relazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza perché abbiamo inserito un miglioramento della riforma per agevolare l'IVA per chi si occupa delle nostre api e dobbiamo dire che anche nel nostro movimento c'è anche un disegno di legge depositato dalla Paola Taverna che si occupa proprio di questo, di tutelare i nostri insetti. Quindi questa che è l'impollinazione, sembra un qualcosa a costo zero, ma da economista posso dirvi che chiaramente ha bisogno di avere un certo valore quindi deve essere internalizzata nel mercato come un valore importante che ci danno i servizi ecosistemici.